Cari fratelli e sorelle, quest'anno il tempo dell'Avento, il tempo di Natale, sembra compresso, affrettato. Appena avevamo acceso la quarta candela della corona dell'Avento, che già era la notte della Natività. Questa mattina abbiamo celebrato la Domenica della Sacra Famiglia e questa sera siamo già i primi vespri della solennità di Maria Santissima, Madre di Dio. Sabato prossimo celebreremo l'Epifania, Domenica, il Battesimo di Cristo, e sarà concluso il tempo di Natale. Sembra una illustrazione di quanto osserva San Paolo nella prima lettera ai Corenzi. Tempus breviatum est, il tempo si è fatto breve. Questa considerazione può apparire scontata, per non dire banale, ma può essere anche di aiuto per la nostra meditazione, in questo ultimo giorno dell'anno in cui ringraziamo il Signore per l'anno che si conclude ed imploriamo la sua protezione su quello che si apre davanti a noi. Man mano che passano gli anni, infatti, abbiamo sempre di più questa sensazione che il tempo si è fatto breve e che si avvicina il giorno della verità, cioè quello dell'incontro con il Signore. Non è soltanto il sentimento che il numero dei nostri giorni è contato, ma soprattutto la presa di coscienza che siamo fragili in mezzo ad un mondo minacciato da tanti pericoli e in cui tutto quello che possiamo desiderare è illusorio o effimero se non lo viviamo alla luce della fede e nella compagnia e nell'attesa del Signore. Egli solo è la nostra speranza e la nostra forza. È per questo che contempliamo con amore il bambino nato a Betleem, inviato dall'Eterno Padre per riconciliarsi l'umanità. Come lo ricorda il Vangelo di oggi, al bambino fu messo il nome di Gesù, conformemente a quanto annunciato dall'Angelo, ciò che vuol dire Dio salva. Sì, veramente, Gesù è il Salvatore. Nella seconda lettura abbiamo sentito le parole di San Paolo Quando venne la pianezza del tempo, Dio mandò suo figlio. Non è certo una ipotetica maturazione del tempo umano che determinò l'incarnazione del Verbo, bensì il piano di Dio, cioè il momento da Lui deciso per la realizzazione delle sue promesse, momento nel quale il tempo degli uomini raggiunse la sua pienezza. Il Santo Padre, nella messa del primo gennaio di due anni fa, rilevava la pienezza del tempo e la presenza di Dio in prima persona nella nostra storia. Ora possiamo vedere la sua gloria che risplende nella povertà di una stalla ed essere incoraggiati e sostenuti dal suo Verbo, fattosi piccolo in un bambino. Grazie a Lui il nostro tempo può trovare la sua pienezza. Anche il nostro tempo personale troverà la sua pienezza nell'incontro con Gesù Cristo, Dio fatto uomo. Ed aggiungeva, attraverso Maria, attraverso il sì, è giunta la pienezza del tempo. Il Vangelo che abbiamo ascoltato dice che la Vergine custodieva tutte queste cose, meditandole nel suo cuore. Ella si presenta a noi come vaso sempre colmo della memoria di Gesù, sede della sapienza, da cui attingere per avere la coerente interpretazione del suo insegnamento. Oggi ci offre la possibilità di cogliere il senso degli avvenimenti che toccano noi personalmente, le nostre famiglie, i nostri paesi e il mondo intero. Dove non può arrivare la ragione dei filosofi, nella trattativa della politica, la può giungere a forza della fede che porta la grazia del Vangelo di Cristo. In questo anno del centenario delle apparizioni della Madonna a Fatima e del messaggio affidato ai tre pastorelli che ritroviamo nel messaggio affidato da Gesù a Santa Faustina, vogliamo questa sera rinnovare al Signore la nostra fede, la nostra fiducia in Lui, il nostro desiderio di vivere alla luce di questa fede in Lui. Vogliamo ripetere Gesù confido in te, ricordando le parole della Madonna a cova di Eiria, alla fine il mio cuore immacolato trionzerà. E' per questo che Gesù è nato fra noi, per manifestare a tutti la misericordia del Padre e comunicarci la sua vita. Questa è per noi la pienezza del tempo, ossia anche il momento favorevole di cui Paolo parla anche. Ecco ora il momento favorevole, ecco ora il giorno della salvezza. Non sprechiamo questo tempo favorevole, questa pienezza del tempo. Viviamo ogni momento con Lui. Sappiamo che abbiamo bisogno di conversione, ma non dobbiamo soscoraggiarsi. Egli ci guida, anzi, ci tiene par mano, perché non perdiamo la strada giusta. Questa è la nostra fiducia. Come sapete, il primo gennaio è anche per volontà del Beato Papa Paolo VI, giorno di preghiera per la pace. Tanti sono i focolai di guerra e le tensioni nel nostro mondo. preghiamo affinché il Principe della pace, Gesù, porti la sua pace a tutti quanti soffrono per tali situazioni, in particolare i nostri fratelli che sono perseguitati o soffrono violenza e discriminazione per il nome di Cristo. La nostra preghiera è forse solo ciò che possiamo fare per quando riguarda le grandi questioni internazionali. Ma sappiamo anche che la pace comincia da noi, anzi dal nostro cuore. Papa Francesco ammoniva in una omelia del mattino a Santa Marta la guerra incomincia del cuore dell'uomo, incomincia a casa, nelle famiglie, fra amici e poi va oltre a tutto il mondo. La guerra, infatti, è conseguenza del peccato, della discorsia che il peccato ha portato tra gli uomini. Domandiamoci questa sera ciò che possiamo e dobbiamo fare nel nostro piccolo per essere operatori di pace e di riconciliazione. Chiediamo al Signore la grazia di compierlo giorno dopo giorno durante l'anno che viene, facendo nostre, come augurio per i nostri cari e per tutti quelli che incontreremo le parole di benedizione che abbiamo ascoltato nella prima lettura di questa Santa Messa. Ti benedica il Signore e ti custodisca. Il Signore faccia risplendere per te il suo volto e ti faccia grazia. Il Signore rivolga a te il suo volto e ti conceda pace. Amen.